Ciao, guarda attentamente questo video perché alcune cose che ti dirò non le troverai scritte in nessun manuale e in nessun libro. Allora, oggi parleremo velocemente del punteggio della patente e il suo meccanismo. Allora, prima cosa da sapere è che ogni patente ha un'attribuzione iniziale di 20 punti, quindi quando tu avrai la patente partirai con 20 punti. Quindi, quando diminuisce il punteggio della patente? Quando chiaramente si commettono alcune infrazioni del codice della strada, che sono parecchie poi in realtà. E quanti punti ci possono arrivare contemporaneamente sulla patente? Ci possono decurtare al massimo 15 punti, non di più. Però attenzione, salvo che non si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente. Quindi, se ho fatto delle infrazioni che comportano anche la sospensione della patente, mi possono arrivare anche più di 15 punti contemporaneamente. Normalmente vengono dati 2 punti ogni 2 anni, partendo da 20, chiaramente, partendo da 20 punti. E per i neopatentati, la prima volta ci danno 3 punti, quindi abbiamo un bonus, poi successivamente 2 punti ogni 2 anni. Fino a un massimo di 30 punti, quindi da 20, io da 20, posso arrivare al massimo a 30 punti. Ora, mettiamo che abbiamo perso qualche puntarello sulla patente, quindi avevamo 20 punti, siamo arrivati a 15 punti. Ok? Ho 15 punti sulla patente. Cosa posso fare? Allora, una cosa che possiamo fare è quella che per due anni, di non commettere infrazioni, quindi per due anni consecutivi, non commetto nessun tipo di infrazione che mi levi altri punti. Quindi cosa succede? Da 15 vado automaticamente a 20. Attenzione, anche se ho un punto solo nella patente, un punto solo, e per due anni non commetto infrazioni, arrivo direttamente a 20 punti. Ok? E questo è un sistema. L'altro sistema qual è? Quello di poter frequentare un corso presso una scuola guida. Se io faccio questo corso, per le nostre patenti, la A e la B, posso recuperare al massimo 6 punti. E comunque arrivare a un massimo di 20 punti. Cosa vuol dire? Che se io ho, che ne so, 12 punti. Ok? 12 più 6 farebbe 18 punti. Se io ne avessi avuti, mettiamo 16, non è che fa 16 più 6, 22, ma arrivo comunque a un massimo di 20 punti. Perché gli altri, come avevamo visto prima, da 20 a 30, vengono dati solo per buona condotta. Quindi, ripetiamo, come posso recuperare i punti? Allora, un caso è non come tre frazioni per due anni consecutivi, in modo che io ritorno automaticamente a 20 punti. L'altro caso è di poter fare un apposito corso che mi consente di recuperare al massimo 6 punti. Ricordati che se arrivi a 0 punti, quindi hai perso tutti i punti, la tua patente verrà messa a esame di revisione. Ok. Altra cosa importante da sapere è che al neopatentato i punti vengono praticamente raddoppiati. Cioè, cosa vuol dire? Che se a me fanno una multa per mancato uso delle luci, mi levano due punti. A te che sei neopatentato, per i primi tre anni, te ne levano quattro. Ti vengono raddoppiati, ricordate queste cosette, quindi per i primi tre anni, vengono sanzionate con il doppio dei punti. Perché per i primi tre anni siamo neopatentati. Ok. Ora qui c'è una serie dei slide dove ci fanno vedere quanti punti perdiamo e dove ci levano questi punti, in quali occasioni. Ecco, è inutile ora imparare tutte queste slide e qui ti do una grande scorciatoia. Perché ti do una grande scorciatoia? Perché facciamo prima a capire non tutti i casi dove ci sottraggono i punti, ma i casi dove non ce li sottraggono perché sono veramente pochi. Ok. E quindi per esclusione sappiamo che di là ci levano i punti, mentre di qua non ci levano i punti. Quando è che non ci levano i punti fondamentalmente? Allora, quando sostiamo davanti a un passo carrabile, non ci comporta una perdita dei punti. Quando guidiamo senza avere con noi la patente, quindi l'abbiamo lasciata a casa, o circoliamo con il veicolo la cui revisione è scaduta. Quindi ricordati bene questi tre casi qua. Sosto davanti a un passo carrabile, guido senza avere con me la patente e circolo con la revisione del veicolo scaduta. C'è anche un'altra domanda, te la voglio far vedere. E' circolare, che sarebbe più da patente superiore, ma il ministero l'ha messa, quindi è bene che io te la faccia vedere. E' circolare in un giorno festivo con un autocarro di massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate. Dice che comporta una perdita di punti. E' chiaramente falsa la domanda. Ok? Perché chiaramente l'autocarro è inferiore alle 3,5 tonnellate, non ci sono problemi. Posso circolare anche nei giorni festivi. Ok? Benissimo. Quindi ricordati quando non ti levano questi punti. Sono questi tre casi più la domanda che abbiamo visto prima. Altra cosa importante, che ti evita di studiare il puntometro, quindi non ammattire per capire quanti punti ci levano per questo divieto o per quell'altro divieto, è la seguente cosa. Ovvero, tutti i quiz dove troverai scritto 4 punti, ok? Stai attento, quindi dove troverai scritto 4 punti, saranno tutti i quiz falsi. E chiaramente gli altri saranno veri. Quindi tutte le volte che in un quiz troverai scritto 4 punti, è un quiz falso. Vai ad occhi chiusi, ok? Perché io i quiz li conosco a memoria. Il video finisce qua e spero veramente di esserti stato molto utile. Ciao.